D'ora in poi non ti do più la mia auto. Ci vediamo domani alla stessa ora. Ho incontrato tua cugina poco fa. Non vado quasi mai a mangiare fuori. Un anno fa ero in vacanza a Napoli. Fra poco usciamo per andare al mare. Per il momento non so cosa dirvi. Sono certo che prima o poi ce la farai. Hai cambiato idea all'improvviso. I diamanti durano per sempre. Oggi andiamo a sciare in montagna. Mi sono svegliato presto stamattina. Se oggi è giovedì, ieri era mercoledì. Tra una settimana andiamo in ferie. Come se ci vediamo qualunque. Come se lo vediamo. E quindi, come un attimo? Anche a tutti andici qui ancora cercano a me in ferie. E quindi, come ne vediamo. È ciò che stessa la scena? Quindi, se lo vediamo. E quindi? Quindi se si trovi a la scena? E quindi tu parla? Oh, come se ti fa? E quindi te lascia? E quindi te lascia? E allora? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.